Nome. Perar Schaefer. Soprannome. Il carnefice. Numero vittime. 11 accertate. Modus operandi. Legava, stuprava, uccideva giovani coppie. Perar Schaefer è nato il 25 marzo del 1946 nel Wisconsin. Durante l'infanzia pensava che il padre, costretto a un frettoloso matrimonio riparatore perché la fidanzata era rimasta incinta di lui, gli preferisse la sorella e sfogava la frustrazione uccidendo animali. Era ossessionato dagli indumenti femminili, in particolare biancheria intima. Diventò presto un guardone, cominciando a spiare una vicina di casa. Quando aveva 19 anni, frequentò la diciotenne Sondra London, impressionando a tal punto i suoi genitori per il comportamento da bravo ragazzo che lo portarono con loro per le vacanze estive. Dopo un anno i due si lasciarono e Gerard scrisse a Sondra malinconiche poesie in cui tra le righe si potevano leggere inquietanti minacce se avesse avuto un altro ragazzo. Prima di trasformarsi in assassino fece in tempo a sposarsi, giovanissimo, per ben due volte. Le mogli chiesero entrambe il divorzio, la prima per comportamenti inappropriati del marito. Nel 1966, rendendosi conto che le sue fantasie stavano diventando sempre più violente, consultò uno psichiatra. La terapia non lo liberò dalle voci che gli dicevano di uccidere. All'inizio del 1972, a 25 anni, fu assunto come poliziotto ma ne fu allontanato dopo un mese perché aveva usato il lavoro per impossessarsi di informazioni relative a giovani donne che avevano commesso infrazioni stradali. Usò poi la divisa, e l'autorità cui essa è legata da sempre, per convincere a seguirlo alle donne che fermava. Il 21 luglio 1972 Schaeffer fermò due giovani autostoppiste, Pamela Wells, 17 anni e Nancy Trotter,18, sostenendo falsamente che l'autostop fosse illegale. Schaeffer le condusse nella zona paludosa. Dopo aver minacciate di venderle nel mercato della prostituzione, complice la pistola calibro 22 che aveva in mano, le fece scendere dalla macchina e le legò per il collo a un albero in modo che, in equilibrio sulle radici, le ragazze si sarebbero impiccate se fossero scivolate. Chiamato sulla radio di servizio, Schaeffer fu costretto ad allontanarsi, quando tornò, non le trovò perché erano riuscite a liberarsi. Venne arrestato ma fu rilasciato solo dopo sei mesi. Il 27 settembre 1972, mentre Schaeffer era libero su cauzione in attesa del processo, Susan Plache, 17 anni, e Georgia Jesk, di 16 anni, scomparvero. Ad aprile si ritrovarono i corpi decomposti delle due ragazze legati a un albero. Gli investigatori notarono le somiglianze con il caso di aggressione dell'ex poliziotto a due autostoppiste, perciò perquisirono la camera dal letto di Schaeffer a casa della madre. Vi trovarono alcuni oggetti appartenenti alle vittime e di molte altre donne, in particolare di Collette Godenhoog e Barbara Vicox, entrambe di 19 anni e svanite nel nulla l'otto gennaio 1973. Rivennero anche undici pistole, raccontì Sadomaso in cui le donne erano definite tutte puttane e un centinaio di foto di donne e di Schaeffer stesso in abiti femminili. Il 18 maggio del 1973 fu perciò incriminato per duplice omicidio. Il nuovo processo, celebrato solo per il duplice omicidio, si concluse con la condanna all'ex agente di polizia a un doppio ergastolo, uno per ogni vittima. Schaeffer negò ogni coinvolgimento nei fatti, anche se vennero alla luce particolari che lo fecero ritenere colpevole di altri omicidi. Il numero esatto non si saprà mai. Dalla perquisizione fatta nella sua camera dal letto e dallo stato di rinvenimenti di corpi di ragazze scomparse in coppia, sempre legate e stuprate, si è stabilito che potrebbe aver ucciso almeno altre donne. 27 settembre 1972 ha ucciso Susan Placce e Georgia Gessu l'8 gennaio del 1973 collette Godenoug e Barbara Vickox. Il 2 ottobre del 1966 si sarebbe reso responsabile a soli vent'anni della morte di Pamela Annater e Nancy Leitchner. Il 29 dicembre 1969 due bambine, Peggy Run, 9 anni e Wendy Stevenson, 8 anni, scomparvero dopo essere state viste in compagnia di un uomo molto somigliante a Schaeffer. Il serial killer in una lettera del 19 aprile del 1989, avrebbe confessato di aver compiuto atti di cannibalismo sui loro corpi. Il 23 ottobre 1972 scomparvero nel nulla le quattordicenni Elise Felmer e Mary Briscolina, di quest'ultima fu trovato a casa di Schaeffer un gioiello. Come omicidi singoli, si ricorda inoltre che Schaeffer ha ucciso la sua ex vicina di casa, Leiga Inline, scomparsa a Miami l'8 settembre del 1969 a 25 anni non che la stessa ragazza che l'assassino spiava dalla finestra di casa. Il 18 dicembre 1969 ha invece rapito, stuprato e ucciso a Fort Lauder dalle Carmen Hallock di 22 anni. Due dei denti della vittima furono trovati nella sua camera, come l'agendina degli indirizzi di Belinda Hopkins, 22 anni, stuprata e uccisa il 4 gennaio del 1972. Il 3 dicembre 1995 Schaeffer è stato trovato pugnalato a morte nella sua cella presso il penitenziario della contea di Bradford, Florida.